Buongiorno e bentornati nello studio di registrazione di Dolce Giornale Bar Giornale allestiti qui nel cuore pulsante di SIGEP nella Hall Sud Padiglione 41. Continuiamo con le nostre interviste che ormai state vedendo in streaming sui nostri canali ancora con dei grandi protagonisti, con noi Pierluigi Demin, direttore vendite di Brimes e due grandissimi campioni del mondo, Gino Fabri della pasticceria, Gino Fabri di Bologna e Marco Pedron, neodirettore di Congusto Gourmet Institute. Perché ho voluto con me questi personaggi? Perché oggi parliamo di Panettone Day. Oggi è il giorno in cui iniziano le preiscrizioni al concorso più longevo d'Italia. Ne parlo subito con Pierluigi Demin. Concorso più longevo d'Italia, 11 anni. Che cosa vuol dire? Longevo non vuole dire vecchio sicuramente perché da 11 anni organizziamo questo evento e quale migliore occasione di essere qui al SIGEP in questo momento di ritorno alla normalità dove la frequentazione di questa fiera storica sta vedendo moltissima gente. Quale migliore occasione? Quindi di mettere intorno a noi, di comunicare a tutti che anche nel 2023 ci sarà la nuova edizione. Tu parlavi di longevo. Longevo dal punto di vista positivo perché è un'esperienza che da 11 anni noi organizziamo. È un evento che da 11 anni organizziamo con tutti i nostri clienti che si vogliono mettere in gioco per sfidarsi, per preparare il miglior panettone che ormai è diventato un'icona del nostro paese, il prodotto tipico del Natale milanese fino a qualche anno fa, ma ormai è un prodotto che viene fatto in tutta Italia ma è diventato l'icona della pasticceria Italia nel mondo. Quindi da 11 anni noi organizziamo questo momento nella quale organizziamo una produzione e una selezione dei migliori panettoni che vengono fatti dai nostri clienti. Questo è un momento che poi porta a settembre a una finale che viene fatta anche quest'anno in una prestigiosa luogo che è Cracco Milano Galleria. E no, fai lo spoiler! Ah, lo volevi dire tu? Eh sì, mi hanno detto che potevo, non potevo dire. Arrivi tu e lo racconti a tutti. Allora lo lascio raccontare a te dopo. Va bene, no, no, te lo permetto. No, è un momento sicuramente importante quello della selezione e per questa selezione chiaramente noi abbiamo scelto dei selezionatori prestigiosi, dei selezionatori che conoscono questo mondo molto bene, che sono vicino a me, che sono il maestro Gino Fabri e Marco Pedron che poi magari tu introdurrai meglio. Ma ecco, quello che volevo dire, perché bisogna partecipare a questo concorso da parte dei pasticceri? Perché è un momento in cui prima di tutto ci si mette alla prova. Si va a migliorarsi e l'altro perché è che chi arriva in finale sicuramente ha una grande visibilità e per la grande esperienza che ho di questi 11 anni, quello che verifico è che diventa anche una fonte di business molto importante per chi arriva in finale, per chi vince, perché la riconoscibilità che questi pasticceri poi hanno sul loro territorio, ma non solo, ha sempre portato in questi anni e quindi chiaramente ha un salto avanti di successo delle loro attività, dei loro negozi, del loro nome, del loro prodotto. Io mi sono divertita a fare un po' di conti e sono ben 1385 i pasticceri che hanno già partecipato al Panettone Day. Quindi se volete essere gli altri pasticceri famosi andate allo stand di CSM Italia dove troverete chiaramente delle persone che potranno dare delle indicazioni. Anche allo stand di Novacart abbiamo un corner perché Novacart è uno dei nostri partner fin dall'inizio, fin da quando, 11 anni fa, ci siamo ideati questo evento, questa attività per sviluppare la conoscenza e la capacità di produrre questa dolce icona dell'Italia nel mondo. Senti, vogliamo coinvolgere questa giuria che fa un po' paura a tutti perché sai che sono in giro sull'online delle pillole di Panettone Day che si chiamano Attenti a quei due, mica per caso. Allora, iniziamo dal presidente di giuria. Gino, dacci qualche consiglio soprattutto su cosa devono investire questi ragazzi che vogliono iscriversi al Panettone Day, a cosa devono fare attenzione? Beh, che cosa devono fare? Devono stare attenti sempre di più a migliorarsi. A migliorarsi perché? Perché noi come giuria, ma non è per dargli l'appoggio ancora così come dire una massata assolutamente, però ci aspettiamo un qualcosa di più. Perché? Perché tutti gli anni naturalmente deve essere aumentato questa asticella per migliorarsi sempre di più. E ci sono le possibilità perché noi, io e Marco, abbiamo assaggiato dei meravigliosi panettoni l'anno scorso e non ce l'aspettavamo. E naturalmente quest'anno vorrei avere la stessa sorpresa, ancora meglio del 2022 perché ci si può sempre migliorare. Quando, come in laboratorio, quando produciamo qualcosa di già ottimo direi e perfetto per metterlo in vendita, noi sappiamo che sarà sempre perfettibile ancora di più il giorno dopo se vogliamo. Perciò cerchiamo di non essere mai, ecco, senza arrivare alla passia, però dobbiamo sempre cercare di fare il passo un po' più avanti perché naturalmente ci sarà sempre quel qualcuno a fianco collega che poi se non lo fai tu lo fa quell'altro. Allora cerchiamo sempre di metterci in discussione. Io devo dire una cosa, io a Natale ho avuto tanti messaggi da parte di chi è stato giudicato da noi di apprezzamento e anche di affetto veramente molto sincero perché quando loro hanno ricevuto il nostro giudizio si sono messi in discussione con quelle famose schede dove abbiamo scritto i nostri giudizi su quel panettone che loro avevano presentato e loro sono stati i primi a mettersi in discussione. Io mi aspetto sicuramente quest'anno un miglioramento da parte loro perché sono delle spugne e naturalmente hanno solo bisogno di consigli queste persone e guai se noi fossimo in grado di non darli. Noi dobbiamo essere molto aperti perché migliorare è un compito anche di noi, chiamiamoli così, esperti. Quando dico esperti è perché ci sono i capelli bianchi che parlano, non è l'esperienza tante volte. I miei sono solo tinti ma va bene, funziona allo stesso modo. Però io mi sento di dire benvenga e io mi aspetto ancora di più come dicevi tu questo messaggio da parte di questi pasticceri. Ecco io ho avuto addirittura in visita da me in un negozio delle persone che sono state selezionate e hanno partecipato alla finale perché hanno voluto dimostrare di persona che era un apprezzamento non certo di condanna, non certo di tagliare la testa a chi partecipa ma di aiutare perché come dico sempre chi partecipa a un concorso è uno che ha già vinto perché partecipare per mettersi in confronto con gli altri è già un vincitore di partenza perciò non perde mai nessuno chi partecipa a questo concorso. E questo mi sento di dire e di lasciare la parola al mio collega Marco che stimo da una vita e continuerò a stimarlo sempre perché è un grande professionista. Grazie Gino, grazie maestro, passa pure il microfono a Marco, continuiamo allora con i consigli da parte della giuria io chiederei a Marco quali sono i parametri su cui fare particolarmente attenzione, ovviamente il gusto ma dici tu Marco. Allora sicuramente per quanto riguarda il discorso del panettone tradizionale non voglio dire che non ci sono segreti anzi però c'è un tipo di cura, un lavoro, un equilibrio. Vorrei portare un attimino l'attenzione invece sul mondo del panettone creativo che l'anno scorso come l'anno prima c'è stato un grande divario tra chi veramente aveva interpretato il concetto di creatività e chi probabilmente non è che non l'avesse interpretato ma come dire non aveva quel tipo di concezione con se stesso significa la creatività è l'arte diciamo è l'espressione del pensiero più profondo nella maniera più semplice quindi il mio consiglio è se prendete delle strade creative cercate sempre di mettere il piede a terra cercate sempre di fare un qualcosa che sia inequivocabilmente buono e a volte la creatività basta solo spostare dal punto di vista anche di mezzo millimetro quindi è importante che anche la parte creativa non sia offuscata solo da quello che è il panettone tradizionale che chiaramente fa da contenitore e da padrone però anche la creatività non basta a volte solo mettere sopra un qualcosa di colorato o qualcosa di colorato all'interno ma che sia in linea con quello che è una cosa che deve essere inequivocabilmente buona quindi fatelo, fate tante prove, fatele assaggiare a tutti non necessariamente a chi vi vuole con piacere ma magari anche proprio a chi ha voglia di trovarvi il pelo nell'uovo ecco Marco ha citato panettone tradizionale, panettone creativo la terza categoria Pierluigi lo diciamo sarà comunque panettone la terza categoria sarà un panettone al cioccolato ma ci saranno tantissime novità riguardo le categorie quindi seguiteci sulle pagine del panettone dei fammi un po' da spalla panettone dei punto it giusto? assolutamente sì panettone dei punto it seguiteci sulle pagine di Dolce Giornale perché noi saremo sempre media partner e sosteniamo questa iniziativa da tantissimi anni il click day per le iscrizioni è subito dopo Pasqua posso dirlo? subito dopo Pasqua quindi avete tempo per pensare, per alzare l'asticella come ha chiesto il maestro Fabri per riflettere sulla ricetta creativa e sorprenderci arrivederci a presto io ringrazio i miei ospiti